Se ami la tradizione e la buona cucina casalinga, il ristorante pizzeria Enoteca, la vecchia cantina, da 48 anni è il luogo ideale per gustare in un ambiente unico ed accogliente tutte le sue specialità. Tagliatelle, lasagne, cannelloni rigorosamente fatti in casa, squisite grigliate alla braccia e carni al forno vi aspettano. Vieni a scoprire anche le nostre sfiziose pizze cote nel forno a legna, anche da asporto. E se a cena ami gli aperitivi, ti aspettiamo nella nostra accogliente Enoteca in cantina. La vecchia cantina è a Trevi Antico di Pesaro, in via Trevi Antico 10. Per prenotazioni chiama allo 0721 50 804 oppure al 338 658 91.